E dunque nella tecnica si realizza la forma estrema di ciò contro cui Nietzsche ha filosofato per tutta la vita, cioè la duplicazione del mondo. La duplicazione del mondo la si fa con la morale, esiste un mondo superiore e un mondo inferiore, la si fa con la religione e la si fa con la tecnica. Ogni duplicazione è al tempo stesso manifestazione di volontà di potenza dei deboli e di nichilismo. Perché quando duplichi il mondo tu, con la copia, ti servi della copia per distruggere l'originale. La morale è un sistema di valori che serve a distruggere le cose di questo mondo, che di solito sono beatamente immorali. La tecnica è la fabbricazione di un mondo due che serve a distruggere il mondo uno. E questa è volontà di potenza, ma dei deboli, ovvero sia è nichilismo passivo. Cioè passivo vuol dire ci vai a finire dentro senza concettere, perché sei un poveraccio, sei travolto da quello che tu pensavi fosse il tuo mondo. Ti mangia, è fatto apposta per mangiare il mondo e mangia anche te. A tutto ciò contrappone il nichilismo attivo, ovvero sia l'oltreuomo. Quello sì che è un soggetto, ma perché non lavora? Perché fa la guerra? Perché sfida il destino? Antiborghese e antisocialista, ma non nazista, per carità. Non ci pensava neanche, non era un suo problema, a parte qualche discrepanza cronologica. Dico, il problema di che cosa sono non gli veniva in mente. Gli veniva in mente che cosa... Quali sono le vie sbagliate lungo le quali si è sviluppata l'Europa moderna. pensiero di mostruosa potenza, filosofare col martello. Pensiero di mostruosa potenza e la tecnica, voi vedete, è investita della questione dell'essere. Che cosa è essere? È l'oggetto prodotto? Il produttore ha a che fare con l'essere o è soltanto un povero ente? E l'oggetto prodotto? Che cosa diavolo è mai? È qualche cosa o è un sogno di potenza che va a finire nella impotenza? Ovvero sia, detto in un altro modo, la storia, chi la fa? La fanno gli uomini o la fa la tecnica? E non è forse il caso stesso di quando si pensa di fare la storia si sta già facendo tecnica? E non bisogna pensare in termini di storia, ma semplicemente di evento e di consegnarsi all'essere, che però non parla, perché gli abbiamo tagliato la lingua. Chi è stato a tagliare la lingua dell'essere? Platone, naturalmente. Barluni dell'essere stavano nei presocratici. Lì c'è la sapienza, un accenno. La tecnica è la nostra storia di pensiero occidentale, è la metafisica. L'invenzione della metafisica è l'invenzione della tecnica. Sono la stessa cosa. Perché? La metafisica vuol dire inventarsi delle idee generali che spiegano le cose di questo mondo in termini di apparenza e l'essenza. L'essenza spiega l'apparenza. Io conosco l'essenza, quindi sono signore del mondo. Uno scienziato ragiona lo stesso modo. Un scienziato moderno conosce il linguaggio metafisico che sta dentro la natura. Lo tira fuori e così domina la natura. Dire scienza, dire tecnica, dire metafisica è la stessa cosa. È tutta volontà di potenza. È una bolla dentro la quale stiamo. L'essere di cui parliamo, quando dentro la metafisica si parla dell'essere come fondamento, è un ente, non è l'essere. L'essere è un'altra cosa. Nella nostra lingua non viene mai fuori che cos'è l'essere. È lui che deve parlare. Non possiamo parlare noi dell'essere. Tutto ciò è lo sforzo tremendo di Heidegger, perché di Heidegger sto parlando, per rovesciare la filosofia come un guanto, per farla sostanzialmente tacere. Basta parlare. Dire la parola, dire l'essenza, dire la potenza, dire la tecnica, sono la stessa cosa. Cioè è l'incubo dentro il quale siamo entrati, con Platone, e da cui non usciamo, non usciamo grazie a noi stessi. La differenza tra Heidegger e Junger sta qui. Ernst Junger, bravino, non è il genio folgorente di Heidegger, Ernst Junger è stato letto da Heidegger come l'ultima parola della filosofia occidentale. cioè come l'espressione vera di quello che voleva dire Nietzsche. Cioè abbiamo un Heidegger che, a partire dalla metà degli anni 30, nel XX secolo, legge accanitamente, forse innatamente, il libro di Ernst Jung, dell'Arbeiter, l'Operaio, che è un libro del 32. Non male, non male, un po' troppo lungo, ma non male. Che cosa c'è scritto nel libro di Junger? C'è scritto, c'è scritto che l'uomo non è più un uomo, ma è diventato un'altra cosa. Quest'altra cosa è l'Arbeiter. Che cos'è l'Arbeiter? L'Arbeiter è un tipo. È una figura nuova, ulteriore. Perché? Che cosa l'ha fatto cambiare? Perché l'uomo non è più l'uomo? Vuol dire non c'è più il soggetto borghese, sostanzialmente. Perché? Perché c'è il lavoro meccanico. Come si manifesta il lavoro meccanico? Facile, con la guerra. La prima guerra mondiale, la folgorazione della prima guerra mondiale è ecco la tecnica. Nello scritto preparatorio dell'Arbeiter, un testo che si chiama di totale Mobile Markung, che è un testo del 30, un breve esagio del 30, c'è proprio di nuovo l'immagine di una turbina mossa dal sangue. La faccenda del mulino ritorna. La turbina mossa dal suo angolo. La tecnica è produzione per la distruzione, produzione per la distruzione. E l'uomo? L'uomo non è più un uomo, l'uomo è un ingranaggio. Poi si tratta di capire se ci comanda, se è l'ingranaggio principale o se è un ingranaggio subalterno. però è un ingranaggio, ha perduto la propria qualità umana.